Eeeh, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Showdown. Oggi andremo a vedere l'esito della seconda semifinale, che vi ricordo vedeva coinvolti due dei personaggi più forti in assoluto di tutto il franchise. Parliamo di Cassandra, protagonista di Assassin's Creed Odyssey, e di Basin, protagonista di Assassin's Creed Mirage. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e partiamo! Il campo di battaglia è una scogliera con un faro. Cassandra scende in campo armata di lancia di Leonida, spada e bastone di Ermete. Basin risponde con spada, la macelata ed ardi velenosi. I due si squadrano, il rumore delle onde che si infrange sugli scogli è l'unico suono udibile. Basin sorride nel vedere il bastone di Cassandra, in quanto è un oggetto a lui ben noto. Cassandra decide che si è perso anche troppo tempo, e sguaina la spada invitando l'avversario a farsi sotto. Basin non si fa fregare, e sguaina a sua volta la spada iniziando a duellare con la Mistios. Entrambi i guerrieri sono abili spadaccini, infatti nessuno dei due sembra riuscire a prevalere sull'altro. Cassandra prova una spazzata con un calcio, ma Basin salta e la colpisce con una ginocchiata in faccia. Basin ha il controllo adesso, blocca il braccio armato di spada della greca, e la colpisce con ginocchiate dello stomaco ripetute. Il medio orientale fa scattare la lama celata, e mira la gola dell'avversaria, che però riesce a spostarsi, e con un calcio riesce a sfintonare lontano l'iracheno. Ora è Cassandra a cercare di riportare un'offensiva efficace, e infatti estrae la lancia di Leonida, mirando al petto di Basin, che evita il colpo spostandosi, assorbendo l'impatto sulla spalla. Basin sanguina copiosamente, e sembra che Cassandra abbia la strada spianata per aggiudicarsi l'incontro. Cassandra fa roteare la spada, e sfera un affondo mirando al ventre di Basin, che però all'improvviso le lancia un sasso in testa. La greca barcolla, e il suo avversario ne approfitta per salire le scale verso la cima del faro. Cassandra lo insegue, e sale anche lei le scale. Arriva sul parapetto del faro, ma di Basin non c'è traccia. La Mistios non vede nemmeno le macchie di sangue sul pavimento. Pare che il suo avversario sia sparito. Mentre pensa queste cose però, la greca sente una mano, che cerca di sfilarle il bastone di Ermete dal fodero posto dietro la schiena. E Basin, che era rimasto nascosto sotto le scale, e che alle spalle attacca Cassandra, cercando di privarla del suo bastone prodigioso. Che ricordiamo, rimargina ogni ferita anche mortale, rendendo pertanto per Basin impossibile poter vincere lo scontro. Cassandra se ne accorge, e ora entrambi hanno le mani sul bastone. Se lo contendono, e alla fine il prodigioso artefatto scappa dalla presa di entrambi, andando a conficcarsi di testa tra due scogli sottostanti. Solo la punta del bastone è ora visibile, e Cassandra attacca Basin furiosamente. L'iracheno però rapidamente, estrae un dardo avvelenato, e lo conficca nel fianco dell'avversaria. Gli occhi di Cassandra rimangono spalancati, e inizia subito a sputare sangue. Ormai la battaglia è finita. La Mistios indietreggia, mentre Basin sorride beffardamente, avvicinandosi a lei per godersi i suoi ultimi istanti di vita. Ma Cassandra con le ultime forze rimaste? Afferra Basin e con lui? Si getta dal faro verso gli scogli. Questa sorta di abbraccio mortale termina con entrambi infilzati nel bastone, rimasto conficcato tra gli scogli. Entrambi agonizzano, ma Cassandra, che era rimasta infilzata per prima, sorride e subito, con tutte le sue forze, spinge via Basin, sfilando nel corpo del bastone, che lo aveva trapassato dalla pancia. Basin capisce, ma è troppo tardi. La greca si sfila il bastone da dietro la schiena, e rapidamente inizia a guarire, sia dall'avvelenamento che dalle ferite. L'iracheno invece agonizza moribondo, a causa del ventre squarciato. Lui, il più furbo tra gli assassini, era stato sconfitto da una leggerezza, dal suo volersi godere la morte di Cassandra, avvicinandosi troppo. Questa spavalderia gli costa cara, Basin chiude gli occhi per sempre, e la Mistios, ormai tornata in piene forze, si allontana tra gli scogli avanzando in semifinale. Bene ragazzi, come abbiamo potuto vedere, è stato uno scontro davvero deciso all'ultimo. Con l'avanzare di Cassandra in semifinale, completiamo la prima metà del tabellone, con la prima semifinale che sarà tra Cassandra e Jacob Frye. E quindi ora è il momento di decidere gli altri due semifinalisti. Pertanto il prossimo quarto di finale, vedrà affrontarsi Ezio Di Tore, protagonista di Assassin's Creed 2, e relativi spin-off Brotherhood Revelation, e Ivey Frye, coprotagonista di Assassin's Creed Syndicate. Il modo per votare ormai, dovreste averlo imparato. Il sondaggio è già aperto sul sito, www.ilcrandagliassassini.it E termina domenica. Non ci resta altro che attendere altri sette giorni, e scoprire chi sarà il terzo semifinalista di Assassin's Creed Showdown. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono. E detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella! Ciao! 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 Ciao!